Sono un'imprenditrice agricola, ho un piccolo laboratorio di produzione locale in cui elaboro i prodotti della terra che coltivo qua a Cibiana. Mi sono regalato sei asine e sono andato avanti così finché adesso sono riuscito a creare la mia realtà. C'è una cosa che ti prende e da lì la testa non ti si stacca. Quando sono insieme ai miei animali mi sento semplicemente io riesco a capire veramente quello che per me conta, quello in cui credo e che vorrei portare avanti.